Due pillole sull'adulterio all'epoca degli antichi romani. Se a commettere adulterio era la moglie, questa era punibile con la morte da parte del marito o dei familiari maschi. Dopo l'ex Iulia de adulterico Ercendis, il padre poteva uccidere la ragazza insieme all'amante se li trovava in flagranza di reato, ma non poteva uccidere solo l'amante, doveva uccidere anche la ragazza. Il marito invece poteva uccidere l'amante, ma non poteva uccidere la moglie. Il marito era obbligato al divorzio, si coglieva in flagrante la moglie che commetteva adulterio, perché altrimenti sarebbe stato accusato di crimen lenocini, ovvero di favoreggiamento dell'adulterio. In tutto questo anche il marito poteva essere colpevolizzato per l'adulterio, ma la sua pena si riduceva a una sanzione pecuniaria e alla restituzione della dote in caso di divorzio.